Così come è molto social anche la nostra versione delle stelle di Azus che prosegue con il Sagittario Sì, il Sagittario che vivrà una domenica bellissima, quindi estremamente positiva con una luna che vi mette di buon umore finalmente Vi permette anche di apprezzare al meglio i rapporti quelli che voi un pochettino snobbate, che sono quelli familiari Perché? Perché voi siete a una ricerca sempre di qualcosa di nuovo Siete proprio assetati anche di conoscenza, di nuove esperienze Invece in quelle situazioni che sono molto familiari potrete trovare anche delle bellissime emozioni E vivere dei momenti di grande serenità, di grande allegria Poi questa luna porta veramente occasioni d'oro per l'amore, per i nuovi incontri, per le nuove conoscenze Capricorno Azus Capricorno che vivrà una domenica